Ciao, creatura. Io sono ecata esplendente e benvenuta o bentornata nel regno di Cosai, ESMA. Buona domenica, creatura. Grazie per essere qui con me. Anche questa domenica di pennichella molto calda. Ho visto che per la maggior parte è stata votata la cucina numero uno, quindi andiamo già a posizionarla, a sceglierla, a posizionarla. Anche se Frappo, l'unico, aveva votato la numero due, che è quella che avrei scelto io, attenzione, ma non volevo influenzare di creatura. Quindi andiamo con quella molto più economica e forse anche più adatta, che si appina al bagno e moderna anche. La numero uno, la numero tre, era veramente agghiacciante, orribile. Rossa e nera, non c'entra nulla. E per fortuna, creatura, non l'hai scelta. Sì, cucina. Jess, promettimi una cosa. Sì, promettimi che non proverai mai più a cucinare quell'orribile piatto che ha distrutto il vecchio forno. Ci penserò. Chissà che cos'era. Sarà stata qualche ricetta italiana rivisitata e fatta da schifo, come succede, tipo in America? Oppure pensano che i cibi italiani, basta metterci l'aglio e l'italiano... Oh, vabbè. E niente, non abbiamo abbastanza stelline per decidere le pareti della cucina. Credo, no? Che sono tutte... Ricordando che come pavimentazione abbiamo scelto... Abbiamo? Ho scelto? Vabbè. Il palcè. Ok, allora. Andiamo a vincere delle stelline. Ovviamente con gesso, perché è quello più generoso anche con i diamanti. Oh, quelle che piacciono a noi, sistemare la roba alla perfezione, con tutti i colori, i pantoni. È lo stesso, no? Che però adesso non so quanti ce ne siano come al solito. Aspetta, allora, prima il blu. Non so come... Se ce ne sono quattro di blu. Allora li mettiamo così. C'è il rosso, perché se no dovevi stare con il rosso, fare l'arcobaleno. No, non c'è. Ok. Credo siano quattro. Così, mettiamo qua questo però. Io ho la, ecca a te, quindi... Non voglio prendere il blu. Ok. Sì, sembra abbastanza contento. Poi, dopo metterei questo, che mi sembra diverso. Cioè, io lo vedo più chiaro. Poi metterei... Questo è un altro ancora. Ah, accidenti. Vabbè, mettiamo così. Poi mettiamo questo verde, alpine green bellissimo, capelli di ecate. Poi metterei questo. Poi metterei questo. Tanto a lui non gli interessa. Penso che non gli interessa la sfumatura in sé, ma vuole che tutti i colori siano dello stesso colore. No? Ok. E poi c'è... Ah, mi sono persa perché partita la pubblicità bomba. C'era anche questo però, eh. Se lo mettiamo qua. Cioè, lo dovremmo mettere così. Così. È un ordine che ho deciso io. Però ci dovrebbe essere anche un verdone. Accidenti. Allora, dicevo qui. Sì, lo so, un po' così, insomma. Nella mia testa ha senso. Il giallo. Perché dopo il verde, diciamo, pisello acido. Lo so, pisello acido. Non sono male. Però me ne avanzano due. Quindi... Ah, c'è il viola. C'è il viola e l'arancione. Quindi arancione e il viola che non c'entra niente. Che avrei dovuto mettere vicino al blu. Però non importa. Ormai è andata così. E non voglio rifare tutto da capo. Quindi... Questo e questi due colori bellissimi. My favorite color. Stupendi, stupendi. Ok. Sembra abbastanza soddisfatta quella emoji. Anche se... Anche se... Ok. Allora. Se vedi dei dialoghi, cioè che io parlo e poi all'improvviso si interrompe. Perché parte la pubblicità. Poi mi dimentico. Durano un botto queste pubblicità. Poi mi dimentico di cosa stavo parlando. Quindi ti chiedo già scusa e non ti dimentico se dovesse succedere. Sai anche per quale motivo. Mi sembra molto soddisfatto però eh. Questi coriccini. Coriccini, coriccini, coriccini. È vicino che sta tirando su qualsiasi persiana. Anche delle case accanto. Per quanto rumore stiamo accendo. Allora adesso. Questi vanno qui. Sono tre colori quindi andranno così. Cioè tre. Pongolette per colore intendo. Dovevo fare anche qua la sfumatura. Ce ne freghiamo altamente. Perché allora dovrei... Non so se ci sarà rosso. Perché se no farei così. Nella serie dovrò fregarmene. Del colore. Che bello questo. Stravico. Ok. Però mi sembra comunque... Dicevo. Guarda vedi che ho fatto colori freddi, colori cadi. Più o meno. E qua sono andata con lo stesso stile. Io non so. Secondo me solo per questa cosa. Meriteremo. Un dieci stellini in più. Però. Non si può sempre. Qua secondo me li vuole vicini. Così tipo. Non lo so. Quindi per logica dovremmo mettere così. Perché sono alternate. Poi questo che colore è? Grigio? No. Che colore è? Non c'è dodo saperlo. Così. E così. Poi farei così. E così che non ho capito che colore è. Così. E così. E così. E così. 3 stelle. Ma che bello. E anche molto estetic da vedere. Vuol dire. Ok. Completato. Ma sì. Crepe la varia. Mi guarda un'altra. Tanto non ne sono uscite. Mille. Guardi un'altra pulcita. E un sacco di monetine. Vediamo che premio. Vinceremo. E poi. Scusa. Ho tolto l'audio. Perché vicino faccio il casino. E stavo dicendo. Che premio vinceremo. Poi perderemo. Durante il gioco. Come il phon. E un quadro. Mi sembra. Del caffè. Credo. Credo. Io direi che. I premi che vinciamo lì. Posizioniamo più avanti. Così. Non rischiamo di perderli. Va bene. E così. Prima. Arrediamo un attimo la situazione. Questa qua si fa la doccia. Nel mio. Infridget. Ecco. Ho spostato qualcosa adesso. Il phon. Non ci credo. Ho trovato il phon. Fraffo. Ho trovato il phon. Era dietro la scala. Quindi. Ecco. Però noi. Allora. Volevo metterlo qua. Se ci sta. Non ci sta neanche. Ma cosa serve il. La mensola. Se vuoi. Non ci sta neanche il phon. Non ho capito. Tutta. Veramente. Vabbè. Mettiamolo qua. Intanto. C'è un caminetto. Proprio il posto. Ideale. Anzi. Qua. Sopra. Ecco. Per ricordarci. Che non l'abbiamo perso. E. Direi che questi. Li lasciamo lì. Così quando. Abbiamo un po'. La situazione un po' sistemata. Iniziamo a mettere anche quegli oggetti lì. Che ne pensi? Un bel like. Grazie mille. E. Tanto lo so che tu mi metti like sulla fiducia anche prima che inizi il video. Perché sei una creatura. Troppo forte. Questa qua balla nel mentere. Molto bene. E la muffa. E' colpa della muffa che c'è in questa casa. Che dà la testa. Yeah. Muro. Vediamo. Allora. C'è. Questo sapinerebbe. Questo però. Ecco. Eh. Vediamo. Eh vabbè. Ma li abbiamo. Io direi che li abbiamo. Sti cazzi. Oh. Non dovevo dirlo. Allora. Mi piace sia questo che. Rende la stanza più grande. Questa la rende troppo piccola. È cupo. Non mi piace. Questo però non mi piace che siano le mattonelle a vista. Come quando. Cioè sembra più un fuori di una casa. No. Che un dentro. Questo ha le foglie. Mi piace molto. Perché ha le foglie. Che è piano. Diciamo che non c'entra molto col pacchè. Però potremmo pensare che il pacchè. È tipo. Il tronco dell'albero. Avete. Quindi ci sta abbinato. Con queste foglie. Anche se. Alla lunga. Magari stanca. Guardarlo. Non lo so. È troppo serio questo. Mettiamo questo. Visto che abbiamo i diamanti. Mettiamo le foglie. Ma sì. Tanto. La casa di Arlecchino. Qualcuno ha commentato. Sì. È proprio la casa di Arlecchino. Cioè. Guarda. Uno dei. Delle persone che ci abita dentro. Cioè. Questa. Questa giacca. Sti quando hanno i verdi. Orribili. Con gli occhiali rossi. C'è un pugno nell'occhio. Vabbè. Ormai è dato il tratto. Una cucina in grande stile. Ha bisogno di pareti in grande stile. Hai mai pensato di aprire un ristorante? No. Tu. Ogni tanto. Ma il vero sogno è quello di avere un programma di cucina tutto mio. Ma dai. Si scoprono sempre cose nuove. Allora. Adesso dovremmo fare le finestre. Però ovviamente ci saranno le stelline. Quindi andiamo a guadagnare altri diamanti e stelline. E là intanto ballo. Perché. Sappiamo che la muffa. Dato la. Ci stiamo alla. Allora. 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 Questo è pane. Non so se lo vuole qua dentro il pane. No. Perché non ve lo fa mettere. Mettiamo qua sopra. Pane. Eh. Ho preso il pane. Mi ho preso. Pane. Non so. Questo dovrebbe essere sciroppo d'acero o cose del genere. Se non sbaglio. Questa cos'è? Panna. Ah. Vedi. C'è. Altro pane. Ah. Questo. Madonna. Che frigo. Frigo un po' strano. Per quello che ha all'interno. Qua mettere i vasetti. Ma non so appunto se vanno a rossopra. E ha un sacco di sciroppi. Così così. Si fa un sacco di panini con marmellate, burro d'arachidi e schifezze varie. Secondo me. Non lo so. Proviamo. Sciroppo alla fragola. Allora. Vedo che c'è dell'altra frutta qua. Magari qua mettiamo l'uva. Tutta insieme. Ma rotola. Io volevo mettere quella verde da un lato. Quella fuchsia dall'altra. Ma rotola via. Proviamo. E qua mettiamo il dragon fruit. Da un lato se non rotola magari mi fa niente rotola per tutto. E di qua melocrano. 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 Dragon fruit se gentilmente non mi rotoli tutte le parti. Grazie. Ma sta rotolando anche melocrano. Ok. E ok. Cosimo. Chiudere. Non so se questo va qua. No. Non va qua questo. Perché c'è questo qui. Io farei così. Mi sembra abbastanza felice. Quindi procediamo. Allora mettiamo quello verde qua. Quella rossa qua. Poi. Il vasetto di V. Poi è quasi finito. Adesso prendiamo la nostra stella. Yeee. La nostra terza stella. Benissimo. Adesso prendiamo un'altra cosita. Perché vogliamo essere ricchi. Comprare tutto. Vediamo cosa troviamo. Dai una cosa carina. No. Vabbè. Buone. Le brioche. Però volevo trovare la console. Che ho visto di lato. C'era uno spezzettino in dentro. Super Nintendo. Va bene. Lo vedremo. Ok. Andiamo a scegliere le finestre. Non vedo l'ora di cambiare sto lavandino qua. Che è parte che sembra un lavandino per il bagno. Ma lo dettaglio. Ok. Le finestre. Belle. Anche quelle nere sono molto belle. Ma mi piacciono di più bianche. Perché. Danno più l'effetto. Grande. Della. Di una stanza grande. Molto belle. Prendone. Le fieco subito perché. Mi hanno colpito subito. Queste così sembrano troppo una cosa di lavoro. E invece così è proprio bello. Come cucina proprio sembra una cucina di un ristorante. Davvero. Vediamo cosa hanno da dire. Quelle finestre sono enormi. La luce naturale è importante per cucinare. Vero? Pensavo che la luce naturale fosse importante per produrre opere d'arte. Cucinare è un'arte jazz. Eh jazz anche tu. Oh finalmente. Il lavandino. Comunque oggi. Stamattina. Sto registrando questo video. E ho registrato quello che hai visto venerdì. E voglio registrarne altri col 3D. Perché è troppo rilassante. Sistema la roba alla perfezione. Ok. Cos'è sempre il make up secondo te? Allora. Cosa ci va? Beh intanto posizioniamo questi. Che ho già capito che più o meno sarà così. Sì non ho guardato i colori neanche i simboli. Allora. Ah così forse. Verde. Cioè non li mettiamoli a caso. Eh ma aspetta perché questi me li mette così per te. Mettiamoli a caso Gitte. Questi invece vanno così. Per quanto te. Questi no. Ah ma forse. Aspetta ci sono anche dei. Questi qua forse. Con questi che gradi è gradazio. Poi proviamo. Allora. Ce ne scometto che ce n'è un altro quadratino così. No scometto male. Ma ci sono due. Eh ce ne sono due. Allora mi sa che ho sbagliato tutto. Vabbè. Intanto. Faccio una cosa per la persona. Ho fatto un infartino nel mentre. Beh per ti dà la solita pubblicità. Bomba. Bombastic. Allora. Allora. Volevo andare con ordine ma è impossibile. Quindi niente. Niente. Non ci sarà un ordine. Cromatico. Perché è troppo complicato. Secondo me qua vanno quelli. con i barattoli scuri. E sopra mettiamo quelli chiari. Tipo questi. E questo. Mi piace di più. Poi alterniamo. Quelli quadrati. Con quelli tonti. Ma non c'è un ordine. Città. Allora. Qua abbiamo messo questi. Quindi via questo. Via questo. Che secondo me vanno nell'altro cassetto. E. Questi che siano. Mi sembrano tutti ombretti. O meno. Non so se hanno. Una cosa logica. Però. Metterei. Qui. Le sfumature. Vedi. Questa. A me sembra sfumato dal verde scuro al verde chiaro. Dal nero al bianco. E dalla viola al rosa. A pastello. Metterei così. Anche se mi piace di più. Ah. Sono tutte sfumate. Come quella. Ma fa più tono. Allora. A me sembra. A me sembra. A me sembra. non è più forte di me, devo dargli un senso spero che così vada bene voglio diventare coprimiti da diamanti, voglio diventare ricca vediamo, scarta la carta, scarta la carta, yeah un pollo arrosto, wow perfetto andiamo a scegliere il lavandino se non sbaglio ok, vediamo che è davanti, ah no, il frigo, il frigo a casa, mamma mia questo qua è in guarda lo scelgo io bianco, va bene perché rosso non c'entra niente, questo è usceno, quindi bianco visto che abbiamo scelto delle pareti comunque importanti perché hanno questa carta da parati con le foglioline stiamo sul classico bianco, va bene, scelgo io, magari a te faccio scegliere il prossimo perché so che ti piace scegliere anche a te che cosa potrei mangiarmi, vediamo un po', che ne dici di garotine e sedano con un po' di hummus fatto in casa a dire la verità non sembra molto impitante no, infatti io mi sarei mangiato il pollo arrosto attenzione ci vogliono 4 stelline adesso e lo scegli tu, il prossimo ci vuole dare questo gioco, vediamo l'altro ho provato anche a spegnere e riaccenderlo ma dovevamo fare la stanza della streconeria, è vero? beh, e ti sei bloccato per un motivo voleva portarci lì non voglio pagare 9,99 euro per togliere pubblicità ok, allora dulce qua potrebbe essere questo dulce, 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 dulce odè 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 dovrebbe essere l'altro l'indulce l'indulce dovrebbe essere molto bene l'altro ma c'è una bambola voodoo su odè lo sai, la bambola voodoo e poi il quadro che è più grande della scatola vuol dire i dettagli, ecco non ci interessa poi buttiamo queste cose allora scelgo il pavimento le pareti ecco cosa ho scelto la parete ecco cosa ho scelto la mensola ogni volta c'è una mente lo prendiamo con questa pavimento mi piace il primo parete beh dai dai sicuramente mi piace anche questa questa è molto bella poi questa cos'è? una specie di tendina trappeggio ma questa guida le nappine le nappine ok completato posizioni immobili nuovi la stanza delle sterconerie cosa ci sarà dentro? oltre alla bambola voodoo che abbiamo appena trovato allora questo perché qua non si azzecca con niente questo qua è bello ok vediamo qui cosa troviamo vediamo un po' apriamo tutti gli scottroni di Ikea ormai abbiamo scelto tutto questa tonalità ci stavamo con le nappine con le nappine con le nappine adriana adriana non ti ricordi e quando dico nappine nappine o ripeto le parole nei video mi viene sempre in mente quel comico la che diceva adriana 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 era di selic se non sbaglio non mi ricordo me del comico questo perché questo non c'entra la mazza un pifferaio magico non c'entra questo si confonde col pavimento e lo diremo che questo poftone questo poftone fa il caso nostro stavo dicendo prima che partisse la pubblicità mi verrebbe da intitolare questo video adriana 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 è così solo chi guarda il video capisce il titolo praticamente non viceversa vabbè il titolo lo capisci dopo praticamente ma si mi piace di più questo questo non c'entra un pifferaio magico questo è troppo chiaro non mi piace questo è più scuro però mi piace di più di quello più chiaro ok perfetto completo su otalisco torno in posizione nuovi oggetti nuovi oggetti nuovi oggetti adriana adriana una una di le sita una scarpa la scarpa della strega un libro rosso ah ci sono i cassetti ma un altro libro rosso un altro libro ma è verde che è sta Roma boh ma secondo te qua c'è che ci va la scopa della strega ne lo so qua in ciclopidia rossa aspetta dopo vediamo la scarpa occhiali mappamondo ho un libro molto speciale lo mettiamo qua c'è vicino questa patente che odio adesso la marca rocca ho messo quanto metto qua solo perché ma non so cosa altro c'è ah infatti questo va qua allora potremmo fare così altre candele bene immaginate che si brucia tutto il mobile perché c'è una candela sopra una piramide un pacco regalo non so non ha molto senso cioè questi oggetti non hanno molto senso li sto mettendo totalmente rando ho preso uno stellino dopo aver detto totalmente rando cos'è una ampolla con degli occhi sembra camera mia aspetta che c'è una delle robe che diciamo cos'è sta roba ah qua va qua no dove va sta cosa così cioè random anche questa va bene un altro coso contenente degli occhi allora punto spigli attenzione attenzione punto spigli lo mettiamo in giro agli occhi agli ove gli occhi il teschio del pappuino allora un lingotto d'oro giustamente c'è chi è che non tiene un lingotto d'oro in casa diciamo così un altro lingotto d'oro è un quadro oribile un'altra boccetta qua di veleno insomma è la casa di quella di foglia dell'imperatore beh ah una mazzetta di soldi bene ottimo aspetta io una mazzetta di soldi che voglio mettere qua non me la fa mettere ma dobbene cosa servono i cassetti se non mi fa metterci le cose dentro che voglia boh vabbè è tutto disordinato come abbiamo fatto per cioè boh vabbè non ci dà a volte il a volte non ci dà le stelline per delle cavolate poi qua è tutto incasinato ci dà la stellina boh non ho mezzo senso un orologio altri soldi altri lingotti d'oro che stanno sospesi così altri schei il gatto porta fortuna e basta però non mi piace come sto così ovviamente allora ho conquistato la nostra stellina vorrei mettere un po' meglio qua è una situazione anche se qua stanno facendo casino vicini no vorrei fare 15.000 tagli non importa ok vogliamo sistemare questa situazione qui vabbè dai lasciamo così in questo punto qua non c'è andato niente alla fine forse andava questo oh non si sa vabbè dai niente rinuncio a darci una logica ok vediamo cosa abbiamo vinto scarta la carta scarta la carta ancora sushi basta abbiamo la casa in massa di sushi non mi piace il sushi però rischio il pollo arrosto oh ce n'è una nuova c'è camera da letto e qua invece vip eh dobbiamo fare la prossima volta ci sono due ricompensi qua guarda perché vip attenzione attenzione allora la prossima volta facciamo questo andiamo che devi scegliere il prossimo arredamento che sarai oh finalmente l'avantino eh non voglio dare per scontato che sceglierai il primo ma so ma so già che il terzo lo sceglierai vediamo cosa sceglierai tra il primo e il secondo che non ci starebbe male neanche il secondo e la butto lì non voglio influenzarti creatura perché ci sta con la parete di qua e stacca un po' invece questo è tutto tutto uguale insomma quindi non voglio influenzarti però io te lo butto lì spero che questo video ti sia piaciuto scegliere il primo e il secondo io ti auguro come sempre buon riposino buon milidiano buon notte buon relax ciao creatura